Uno, due, tre, quattro, cinque, push up man all'azione anche a Bristol! Arriviamo a dieci, no? Boh, forse ci sono. Allora? Facciamo presente che siamo in un parco giochi. E dietro c'è il fonte. Un parco giochi con tanti genitori. Nessuno lo caga. No, ma agli inglesi non gli interessa.